Ah raga, oggi la Juve ha giocato così bene che mi sono messi in camicia, non è vero, me ne fregava un camicia, però ero in camicia e quindi ho detto facciamo il video con la camicia, no è che mi sembrava inutile levarmi la camicia, in ogni caso, in ogni caso, la Juventus distrugge il Parma e distrugge il Parma per 4-0, distruggendo, per il giorno l'ho detto, gli emiliani. Raga, oggi credo che la Juve così tutta la stagione, non si era ancora mai vista, nemmeno una volta e nemmeno per sbaglio, credo che abbia fatto la miglior partita della stagione dall'inizio e credo che gli automatismi di Pirlo stiano entrando in circolo, fate attenzione perché alla lunga potrebbero uscire fuori. Nel titolo oggi voglio mettere, chi critica Kulusevski? O è scemo o è stronzo, forse lo censurerò, perché io penso questo sinceramente, nel senso, avevo letto in settimana qualche critica nei confronti di Kulusevski, che sì, dopo un buon inizio si era un pochino adagiato, indubbiamente, assolutamente, era un pochino calato. Ma ragazzi, Kulusevski, l'avete visto lo scorso anno, ecco, Kulusevski è un giocatore straordinario, a me dispiace perché è andato alla Juventus, cioè l'avrei voluto avere io, ma lo sapete il mio amore gigante, gigantesco che provo per questo calciatore. Ragazzi, Kulusevski è straordinario, io ho due magliette di Kulusevski, entrambe del Parma, prima e seconda maglia, perché mi piaceva talmente tanto e me ne sono volute prendere tutte e due. Poi dopo che io ho preso le magliette, la Juve si è presa a lui, e quindi sono rimasto così come in cecio. Però devo dire che Kulusevski è un giocatore straordinario, e io ci avrei scommesso le balle che oggi contro il Parma avrebbe segnato. Tra l'altro Lex, in forma, non in forma, doveva tornare ad essere in forma, ho detto ecco, vedrete che contro il Parma glielo butterà dentro e glielo ha buttato. Ma oggi la Juventus, bene o male, ha giocato bene tutta, da Buffon che ha poche possibilità di far male, ma quelle che ha di subire male, ma quelle che ha le neutralizza tranquillamente, fa una parata su Kuczka, un'altra che sinceramente non mi ricordo su chi fosse, ma in generale la Juventus oggi ha giocato in modo praticamente perfetto, e quindi è quasi impossibile trovare, a mio modo di vedere, l'insufficienza. Gioca De Ligt, che tra l'altro fa un errorino, un minuscolo errorino all'inizio, ma poi si riprende benissimo, e è lui, regà, il centrale di difesa più imperioso, più difensivista, più preciso a livello di, diciamo, intercettazioni di anticipo difensivo. Dall'altra parte Bonucci, che oggettivamente, difensivamente, non parlo di stasera ma parlo in generale, lo sappiamo, non è un campione, però quando lancia lui, e vallo a prendere, quando ti fa saltare la prima marcatura facendo il lancio per l'ala, e vallo a prendere la palla, e secondo me quello è un vantaggio. Torna Alexandro, gioca Danilo, Danilo buono, Alexandro anche lui buono, insomma, io credo che adesso Andrea Pirlo stia contando anche gli uomini per capire chi può giocare in questa Juventus e per capire su chi può contare veramente, ecco, credo che il ritorno di Alexandro sia un punto importante a favore di Andrea Pirlo. Oggi, regà, gli è bastato vincere la Juventus in un match praticamente facile, per arrivare al ridosso del Milan, agganciare l'Inter, superare la Roma. Regà, il campionato è lungo e la classifica è corta, quindi tutte possono arrivare in questo momento, secondo me, a vincere lo scudetto. Certo, c'è chi è favorita e chi non è favorita, c'è chi è più forte e chi è meno forte, però sono tutte là, almeno a livello di punti. E quindi, secondo me, vedremo, almeno fino ad aprile, ok, un campionato molto aperto. Poi vedremo se, insomma, usciranno fuori le individualità, se uscirà fuori il modo di giocare. Modo di giocare, a proposito, Andrea Pirlo credo che stia capendo un pochino come voler gestire il centrocampo. Primo nome su tutti, McKennie. Ecco, ne avevamo parlato nel match, se non sbaglio, contro la Samp, la prima giornata di campionato in cui la Juventus aveva distrutto la Samp 3-0. La vittoria più convincente della Juventus in campionato prima di questa, perché adesso questa è, secondo me, la più convincente. Prima di quella c'era questa, cioè prima di questa c'era quella. E McKennie aveva fatto molto bene, ma credo che McKennie, sia a livello internazionale che a livello nazionale, sta dimostrando giornata dopo giornata di poter essere un punto focale per i bianconeri. E tanto di cappello, cioè anche oggi, ragazzi, praticamente era ovunque. Ha dato quel pallone di Cristo per Ramsey, ha lottato per 90 minuti, ha recuperato una marea di palloni, ha fatto una gran bella partita a McKennie. Kulusevski fa gol, ma Kulusevski in generale l'ho visto sempre pronto, l'ho visto sempre in palla. E anche qua è un vantaggio importante avere un giocatore come Kulusevski che ti dà qualità. E io credo che quest'anno, se la Juventus dovesse riuscire a vincere lo scudetto, ve lo sto dicendo adesso che siamo al... Che giorno è oggi? Il 19 dicembre, ve lo sto dicendo adesso. Ecco, se dovesse riuscire a vincere lo scudetto i due uomini cardine, se vogliamo mettercene tre, uno sarà McKennie, secondo me. Uno sarà Kulusevski e uno sarà Morata. Allora, su McKennie ve l'ho già detto, su Kulusevski vi dico che questo regà può giocare ovunque. Mezzala, dietro ai punte, esterno di centrocampo, ala, farzo 9, può giocare ovunque. E questo, per un Pirlo che magari vorrà poi attuare qualche sistema di gioco camaleontico, può essere veramente oro che cola. Bentancur è sempre più perfetto, è sempre più, come posso dire, rifinitore di se stesso, non tipo a livello di goal, a livello di realizzazione, quanto a livello della prestazione che ogni domenica mette in campo. E io questo Bentancur, che avevo visto benissimo settimana scorsa, che avevo visto benissimo a metà settimana, che vedo benissimo da un mese, non lo vedevo così in forma dai tempi dell'ultima Juventus, se non vado errato, di Allegri. Perché con Sarri non si trovava molto bene, o sbaglio io, no, forse con Sarri si trovava bene e nella prima di Pirlo non si è trovata bene. Non lo so, c'è stato un momento, allora, Bentancur è arrivato a un momento, forse con Sarri si trovava benissimo, forse con Sarri. Bentancur si trovava benissimo in una stagione, che adesso vado un po' a memoria, non mi ricordo, perché con questo Covid non ci ho capito più niente. Però ha fatto una stagione di Cristo, dove è stato uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Poi è calato, non so se era un anno, un mese o un giorno, però è calato drasticamente. E adesso sto vedendo che sta ritornando a quei livelli là, e quindi tanto di cappello anche per lui. Ramsey, forse il migliore del centrocampo appena dopo McKennie, Ramsey fa benissimo. E io vi dicevo che Ramsey, quando lo avessero, quando lo avrebbero, ma come cazzo si dice, quando diventava giocatore che, diciamo, lottava anche, spaziava sul fronte offensivo, sarebbe diventato incisivo. Questo gli sta facendo fare Pirlovo, diceva, il gioco del carcere è un gioco molto semplice, boh, butti là, è un po' come diceva, ma c'ha la nocula, è diventato forte quest'anno. No, lo mettevi esterno di centrocampo, ala d'attacco, che praticamente era meccanico, e non meccanico nel senso, era lento e arginoso in quello che faceva, come una merda, è normale che non rendeva l'esposto nel suo ruolo originario, rende, ecco Ramsey sta facendo benissimo per quello. Ma a parte che oggi la Juventus è, non so, è andata a Lourdes, ha giocato benissimo Portanova, quando è entrato, per poco faceva gol, ha fatto un quarto tra e poco segnava, ha fatto benissimo anche Bernardeschi, che ha giocato molto bene, ha fatto l'assist per Morata. A proposito di Morata, io ripeto, lo ripeterò ogni settimana, ogni settimana, ogni settimana. Regà, Morata io non mi sarei mai aspettato che avrebbe fatto così bene, perché Morata non è solo il giocatore che butta dentro il pallone, che continua a buttare dentro il pallone, ma Morata è diventato anche il gioco della Juventus. La Juventus vuole prendere Dzeko per fargli fare il Dzeko. Ecco, Morata sta facendo quello, difende il pallone, lotta, lavora per la squadra, gli sta facendo fare il regista d'attacco, un ruolo che non mi aspettavo mai di poter vedere da Morata, e invece Morata lo sta facendo in modo perfetto, ottimale, e quindi lasciatemi dire tanto di cappello. Concludo con Cristiano Ronaldo, concludo con Cristiano Ronaldo, ragazzi miei. Ronaldo, ma che cosa gli vuoi dire? Se era preso tante critiche perché tre giorni fa aveva fatto schifo ed oggettivamente aveva fatto schifo, al di là del rigore sbagliato, aveva sbagliato tutto quello che gli era capitato, ogni pallone lo aveva sbagliato, oggi si ripetono tutto quello che è suo, go porra citta, ha fatto doppietta, giocatore straordinario, ha fatto un go pazzesco, ha chiuso, ha aperto, ha chiuso la partita, ha fatto tutto lui, e credo che sì, resti ancora uno dei due migliori al mondo, nonostante le critiche, nonostante le problematiche, Ronaldo è sempre Cristiano Ronaldo. Bravo Pirlo che ha saputo, diciamo, far coincidere un po' tutto, la Juventus batte il Parma 4-0, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi invito come sempre a rilasciare tantissimi qui sotto, vi invito anche a seguirmi sul mio altro canale, Sicolf Calcio 2.0, dove pubblico video di FIFA, buoscelà, l'allegno come sempre. Ah regà, andiamo adesso in diretta sulla piattaforma viola per parlare di questa partita, dai, ci vediamo tra un po'.